In viaggio nella provincia di Salerno alla scoperta del territorio, ma anche degli antichi mestieri. Ora, questi incontri sono lì, nero su bianco, nelle pagine di questo nuovo libro. Sì, l'aristocrazia delle mani, storie di artigiani di Mondi. Sì, 12 anni di lavoro. Ecco, parte di questi 12 anni sono gli ultimi tre anni qui con Quarto Canale, insomma. E quindi sono tutte trasmissioni andate in onda anche su Quarto Canale, su Telecolore, su tante altre emittenti televisive, su tutte le emittenti televisive del nostro provincio. Sono tutti gli artigiani che ho visitato nel corso di questi 12-13 anni, ma innanzitutto sono gli artigiani della provincia di Salerno. Ho escluso volutamente gli artigiani della Villinese, del Beneventano, del Casettano, del Napoletano, ma non per, diciamo, per una sorta di giovinismo sì, perché è la provincia di Salerno che a me interessa, che a noi interessa, che anche alle nostre emittenti è. Insomma, tra le pagine di questo volume ci sono le storie di tanti artigiani, di tante persone che lavorano e creano con le mani. Ricordiamoli alcune di queste figure. Io ne ricorderei uno in particolare per prima, insomma, è Don Giuseppe Fasolino di Castel San Giorgio, l'orafo, l'orologiaio antelitteram, è una figura straordinaria, ma per la storia sua, proprio il suo, ecco, diciamo in inglese, background, si dice così? Si dice così, background. Background, ecco, veramente straordinaria. Una persona affascinante anche nel suo eloquio umile, modesto. E poi la sua artigianalità, la sua manualità, la sua perfezione nel, diciamo, lavorare e l'attenzione che attiene quei piccoli minuti, minuscoli e microscopici pezzi, è una cosa straordinaria, non ce ne saranno più artigiani come lui, non ci saranno più i quattro ciocchi che hanno nel nome il cognome. Erano quattro ciocchi già quattro secoli fa, da un secolo loro sono i più grandi pepai del meridione d'Italia. Non ce ne sono più, non ci saranno più gli armieri di Pattano, di Vallo della Lucania, i fratelli Mainendi, come non ci saranno più i liutai di Gioi Cilenti, i fratelli Campitelli, che non solo li fanno i liuti, le chitarre battenti, ma le suonano. Ecco, perché l'aristocrazia nelle mani? Come nasce questo tema? Guarda, grazie, grazie per questa domanda, perché io in premessa ho messo una frase di Gropius, Gropius è stato uno, Adolf Gropius, uno dei più grandi urbanisti e architetti, nato a cavallo dal XIX e il XX secolo, tedesco, che diceva, non c'è differenza tra artista e artigianato, bisogna ritornare all'artigianato, diceva un secolo fa, ma tu capisci in questo momento quando è importante parlare di artigianato, quando ci sono qui, in questo libro, diciamo, in questa piccola opera, ci sono degli artigiani che hanno ceduto la partita IVA, ed è una cosa che rattrista, perché, allora, senza questo libro, che cosa resterebbe di loro? Quindi è per ricordare persone che hanno fatto la storia, le nostre radici. Anche, ma non è un percorso arritroso nella memoria, perché la memoria è indispensabile per collocare il presente nel prossimo futuro, senza la memoria non esiste niente, quindi qui ci sta anche il sediaio di Pagani, un personaggio straordinario che quando è stato intervistato da me, ecco, ha parlato in dialetto tutta la trasmissione, e quando voleva parlare in italiano, ecco, te lo dico come dice Di Pietro, non azzeccava una vocale, ed era però di una semplicità, e quando io dissi, ma perché questo mestiere, siete in tante? Sì, vabbè, ma io sono numero uno.